dedicare la vittoria all'amico matteo a cui va idealmente l'abbraccio di tutto il popolo nero verde il risultato lo dedichiamo a lui perché è un ragazzo d'oro è incredibile quello che è successo e ha rischiato di perdere l'occhio quindi una cosa gravissima noi oggi abbiamo giocato soprattutto per lui